Signora lei da dove viene? Da Milano. Viene sempre a Pesaro tutti gli anni? Sì. Sempre su questa spiaggia? Sempre su questa spiaggia, veramente quanti anni sono Roby? 50. Quindi si trova proprio bene, le piace il mare di Pesaro? Sì, esatto, se mi piace Pesaro è il suo mare. Ascolti, quest'anno è ancora qua in vacanza, quando tornerà a Milano? Di preciso non saprei dirlo, magari sta settimana oppure settimana prossima. Finché non finisce, noi siamo qui, finché non ci cacciano. Lei è di Pesaro? Sì, sono stata ospitata a Pesaro, però sì, abito a Pesaro comunque. Signora lei di dov'è? Di Verona. È qua in vacanza quindi? Certo, sì. Ultime ferie? Ultime ferie, ultimo giorno di ferie? L'ultimo giorno di sole, speriamo che tenga botta fino a sera. Lei quanti giorni sta qua? No, io domani riparto, io sono già stata qua a luglio, ad agosto e quindi ho fatto solo un salto per chiuder casa. Lei da dove viene? Io vengo da Milano. E oggi approfitto per fare una bella giornata di sole, di ferie? Allora, in sincerità abbiamo guardato il meteo e dava prima giorni alterni, pioggia e sole, però conoscendo Pesaro sapevo che avrei trovato una giornata di sole. Ne abbiamo approfittato per fare un ultimo weekend di sole. Non è la prima volta che viene qua? Io sono legato a Pesaro, vengo qua da circa 30 anni perché ho mia figlia che vive qua e sono nonno di un bimbo di 8 anni che adesso è in acqua che sta, anche lui vedendo gli ultimi raggi di sole. L'acqua com'è oggi? Il mare è mosso ma l'acqua è sempre bella, l'acqua è sempre bella e Pesaro è una bellissima città che offre veramente tanto.